Grazie a tutti. Presidente dell'ente Fiera per un cenno di saluto. Grazie, grazie Presidente e buongiorno a tutti e benvenuti a Vicenza, a Fiera di Vicenza. È un grandissimo onore per noi ospitare quella che mi sembra, sì sì, la sedicesima conferenza nazionale della SITA. Ho voluto anche scrivere in Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali. Ringrazio il Consiglio Direttivo di ASITA, in particolare il Presidente e il Professor Luciano Surace, il Consiglio Scientifico e i soci per aver scelto Vicenza, la città del Palladio, per la loro conferenza nazionale. Grazie a tutti. 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 di questo cambiamento anche per noi di Fiera di Vicenza. Settimana prossima anche noi avremo dei importanti incontri, convegni sulla sicurezza, sicurezza a 360 gradi con security che sarà in mostro a congresso, mi auguro che anche la Sua Eccellenza il Ministro Cancellieri sarà qui con noi, ma proprio per andare sempre nella direzione del... è bellissimo dare il contenitore ma è importante il contenuto perché io faccio sempre l'esempio, noi abbiamo dei grandi competitor per quanto riguarda l'oro che sono Hong Kong, Las Vegas eccetera, noi comunque siamo fra i primi 3-4 nel mondo per quanto riguarda oro e l'ufficeria e con Hong Kong non potremo mai competere sul contenitore ma posso assicurarvi che sui contenuti non solo competiamo ma soprattutto li superiamo. Con questo so che le cose sono veramente importanti, io non voglio parlarvi di Fiera di Vicenza, penso che molti di voi la conoscono, ma l'importante è che siate qua nella città bellissima del Palladio, patrimonio UNESCO, per cui io rinnovo il benvenuto, rinnovo i ringraziamenti a tutti voi, al Presidente, al Consiglio Direttivo e a tutti i relatori e vi auguro buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie Ingegnere, così possiamo dare l'avvio ai nostri lavori. Nel programma che avete visto io figuro come co-moderatore insieme al Presidente Barilà, in effetti non sarò io, povero un torello di manzionare la memoria ad ardire a moderare una sessione di questo tipo. Mi preme soltanto il benvenuto alla componente inusuale di questa conferenza, alla componente del mondo giuridico e forense, cioè agli avvocati presenti. Il moderatore della sessione, abbiamo l'onore di avere il Presidente Barilà che condurrà tutto quanto, il palco dei relatori è così prestigioso e io mi ritiro in buon ordine, il mio ruolo di moderatore sarà nel controllare che ci sia sufficiente acqua nei bicchieri, nelle bottiglie e che le cose vadano, la logistica funzioni. È previsto a metà, dopo le prime quattro relazioni, una brevissima, vi prego, brevissima pausa caffè per motivi di esigenze personali e per motivi anche di registrazione dell'audio video. Tutta la sessione, così come le altre sessioni della conferenza, viene ripresa e verrà riversata su YouTube questa sera domattina, tutti quanti potranno free, scaricare o revisionare i nostri lavori. Io do la parola al Presidente Barilà e ringrazio in anticipo voi presenti e i relatori che mi hanno onorato, che hanno dato la loro disponibilità. Grazie e buongiorno. A nome della Camera Penale di Vicenza porgo anche io un saluto a tutti i presenti e un ringraziamento anche per i relatori. Il tema di questa mattina, che costituisce la sedicesima conferenza nazionale della CITA, recita «Geomatica forense, il ruolo della prova scientifica nei contesti investigativo e processuale». È un argomento al quale, come penalisti, abbiamo un sicuro interesse, poiché ogni processo ha alla sua base la ricerca di una causa di un evento e questa causa va normalmente ricercata nell'ambito di leggi scientifiche. Il giudice, infatti, si presenta non già come un creatore di leggi scientifiche, perché ciò sarebbe contrario al principio di legalità, ma come un fruitore, un consumatore e quindi si appoggia ad una cultura che le è esterna. Il protocollo di questi rapporti ebbe lungi dall'essere trovato. La questione è così complessa da affaticare gli epistemologi già da molti anni, ovviamente dall'inizio della speculazione filosofica, e non è certamente destinato a risolversi con questa nostra mattinata di lavori. È certo però che il discutere attorno a queste tematiche, nell'ambito delle quali viene poi a riagganciarsi il problema della prova scientifica, che ovviamente si ricollega al valore della legge scientifica e ai suoi rapporti con la legge penale, ecco, volevo dire che questo tipo di discussione non può che essere proficuo. La mattinata è costituita da una prima parte con sei relazioni opportunamente calibrate. Ve ne sono alcune che partono, che tentano di sviluppare l'aspetto teorico, scusate tentano ho detto male, certamente svilupperanno l'aspetto teorico e generale e speculativo della questione. Ve ne sono altre che invece fanno riferimento ad alcuni casi che hanno interessato la cronaca e che certamente ravviveranno l'interesse. La seconda parte invece è costituita da una tavola rotonda che sarà coordinata dal professor Di Prinzio, nella quale le esperienze che abbiamo prima sentito nel corso delle relazioni verranno a loro volta sviluppate. Ho il compito di ricordare ai signori relatori che ci attendiamo, che esauriscano il loro compito in 20-25 minuti per poter consentire appunto uno sviluppo ordinato dei lavori. Io passo senz'altro a dare la parola al consigliere Salvarani che è il primo relatore. Si dice sempre che di una certa persona non c'è bisogno di presentazione, forse questo è un luogo comune ma sicuramente vale per il consigliere Salvarani che abbiamo conosciuto per gli anni che ha trascorso qui con noi, nella nostra procura della Repubblica di cui è stato a capo. Il pregio e l'interesse del suo lavoro ci è quindi ben noto. Gli diamo la parola per la prima relazione magistrato, il valore della prova scientifica. Buongiorno a tutti, vi ringrazio della presenza. Io tutto sommato come primo relatore mi atterrò ad una diciamo relazione di carattere generale sul valore della prova scientifica nell'ambito del processo penale e sui problemi che essa pone al giudice ma anche alle parti nel processo penale che oggi è un processo adversario, cioè è basato sul contraddittorio delle parti e questo è un grande passo avanti. Grande passo avanti perché forse nella cultura giuridica precedente, che a molti di voi sarà forse sconosciuto, in cui c'era un procedimento invece di carattere inquisitorio, molte volte la prova scientifica se veniva acquisita era quella del perito e a quelle conclusioni peritali, mancanza del contraddittorio, il giudice si affidava. Oggi la realtà è diversa. La realtà è diversa perché anche il mondo del diritto ha cercato tutto sommato di adattarsi e di adeguarsi a una complessità che la modernità, lo sviluppo tecnologico, l'evoluzione delle scienze ha determinato e ci sono nuove problematiche nel processo penale, anche civile a dir la verità. Vi parlerò però in particolare del processo penale. Cioè il giudice non è che risolva più i problemi causali, perché di quelli ci interesseremo quantomeno nella prima parte, attraverso quello che era il metodo proprio del giudice, cioè il ragionamento probatorio in chiave induttiva, cioè sulla base dell'analisi dei fatti, che garantiva poi attraverso questa analisi un elevato grado di probabilità logica, basato poi molte volte su un libero convincimento del giudice. Oggi, nel momento in cui noi affrontiamo invece situazioni molto più complesse e abbiamo bisogno quindi di confrontarci con il sapere dei periti, dei consulenti, dei testimoni esperti. Oggi noi giudici dobbiamo saper affrontare queste problematiche in maniera diversa e vediamo come. E' vero che oggi non abbiamo elaborato una cornice epistemologica generale che riguardi i rapporti tra il sistema della scienza e il sistema giuridico, ma forse questo non è poi così rilevante. Filosofi della scienza, tutto sommato, hanno basato le loro teorie per valutare la scientificità di determinate ipotesi in maniera diversa. C'è chi ritiene che la base della scientificità di un enunciato sia costituita dalla conferma induttiva, c'è chi invece ha ritenuto che sia il risultato valido quando esso sia falsificabile, ma noi tutto sommato possiamo anche abbandonare questa disputa e cercare di vedere da operatori quale può essere il nostro ruolo. Certo è che per l'accertamento dei nessi causali, oggi nelle situazioni complesse, è necessario un rinvio al sapere scientifico. La incertezza scientifica però costituisce il quadro di riferimento con il quale i giudici devono misurarsi per risolvere le controverse giudiziarie. Controverse giudiziarie che possono riguardare il rischio tecnologico, chimico, delle contaminazioni ambientali. Insomma, la società moderna, la società del rischio pone al giudice un compito e un ruolo che adesso andremo meglio a identificare. Perché la domanda che ciascuno si fa è questo, ma fino a che punto i giudici, gli avvocati, che sono provvisti di un bagaglio culturale a carattere tecnico-giuridico, sono poi in grado di applicare con rigore e coerenza un modello di causalità epistologicamente assai complesso, come quello della sussunzione sotto leggi scientifiche. E allora ci si pone il problema, ma non è che poi questo uso giudiziario di questo modello di causalità non può degradare a un semplice espediente retorico di giustificazioni a posteriori, di decisioni prese invece su ben altre basi. E questo è un interrogativo che pone non un pinco pallino, ma un autorevole professore di diritto penale, che è il professor Fiandaca. Dice, nella annotazione di una sentenza che basava proprio le sue decisioni sul sapere scientifico, che molto probabilmente il giudice utilizza la scienza, ma poi, alla fin fine, perviene alle sue decisioni sulla base di scelte valoriali e quindi usa la scienza come espediente e come giustificazione. Io non condivido questo atteggiamento così scettico su quello che può essere il ruolo del giudice. Certo, il problema per il giudice è un problema anche di acculturazione, di avvicinamento a quello che è, diciamo, il sapere scientifico, ma anche di disponibilità ad essere un controllore di quello che avviene nell'ambito del processo quando vi siano delle teorie antagoniste in particolare. Il giudice ovviamente non è un conoscitore di quelle che sono le problematiche scientifiche in senso proprio, però deve saper porre dei criteri in base alla quale valutare poi quale può essere la tesi scientifica che si confronta utilizzabile ai fini della decisione. Ed è questo è stato tutto sommato l'approdo a cui si è giunti, anche sulla scia della giurisprudenza americana, di cui siamo grandi debitori, perché il processo basato sul contraddittorio è proprio della giurisprudenza anglosassone. E lì, già nel 1970, noi eravamo ancora un po' lontani a dir la verità, nel 1970 c'era per l'appunto il processo inquisitorio, eccetera, eccetera, e si utilizzava poco la prova scientifica. Sono state poste delle regole, regole ai fini di valutare la prova scientifica. Il giudice deve controllare che la scienza che si usa ai fini probatori nel processo sia davvero scienza. E deve anche essere consapevole che la scientificità della prova non produce delle presunzioni di verità o di certezza, soprattutto quando, come nella maggioranza o nella stragrande parte dei casi, sia di natura probabilistica e non di natura universale. Poche sono le leggi universali scientifiche di copertura. E quindi nel 1975 sono entrate in vigore le Federal Rule of Evidence che si occupano di disciplinare proprio la testimonianza dell'esperto. E successivamente queste regole, accresciute e rielaborate, sono state poste in una importante sentenza della Corte Suprema che è il caso Dobert. Non vi racconto il caso, perché quel che mi interessa è indicare quello che la Corte Suprema afferma in tale sentenza ai fini della validità e dell'utilizzo della prova scientifica, soprattutto nel processo americano che voi sapete essere deciso da una giuria, il giudice ha la funzione di valutare l'ammissibilità della prova, differentemente invece che nel caso del processo italiano dove il giudice valuterà la prova ai fini decisori. Bene, nel caso Dobert si affermano quattro criteri. La validità, il caso Dobert guardate costituisce un po' il punto di riferimento alla Bibbia quasi della giurisprudenza anglosassone in materia. E vedremo, e vedremo quale influenza ha avuto sulla giurisprudenza italiana. Allora si dice la validità, la tendibilità scientifica delle prove devono essere valutate tenendo conto di questi criteri. Primo, la controllabilità e la falsificabilità della teoria o della tecnica che stanno alla base della prova. Secondo, la percentuale di errore noto o potenziale è il rispetto degli standards relativi alla tecnica impiegata. Terzo, la circostanza che la teoria o la tecnica in questione siano oggetto di pubblicazioni scientifiche e quindi di controllo da parte di altri esperti. Quarto, il consenso generale della comunità scientifica interessata. Ora vedete che sono criteri selettivi importanti, poi se ne sono anche aggiunti altri, anche la nostra giurisprudenza poi, e ne aggiunti soprattutto nelle sentenze della Corte di Cassazione, una delle ultime, dice che per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono, ma anche l'autorevolezza, l'indipendenza, l'autonomia di dello scienziato che è chiamato e ovviamente anche qui il grado di consenso che questa tesi gode nell'ambito della comunità scientifica, perché questa è una regola molto importante. Devo dire che negli Stati Uniti, nonostante che queste regole siano state poste, non sempre sono state osservate poi e dai tribunali di primo grado e dalle corti, eccetera, molte volte ci sono stati proprio dei contrasti in ordine, per esempio, alla eccessiva rigidità dei criteri dobert e quindi a una esigenza di maggior flessibilità per l'introduzione della prova scientifica, eccetera, ma tanto che si è sentita la necessità di nominare un'apposita commissione per vedere qual era lo stato, diciamo così, della situazione nell'utilizzo della prova scientifica ed è uscito di recente, nel 2009, un report dell'Academy, della National Academy of Science che è piuttosto drastico nei confronti di quelli che sono stati i risultati della prova scientifica e dell'utilizzo della prova scientifica. si è affermato che la prova scientifica, nella maggior parte delle decisioni che si sono assunte da parte dei giudici, ha avuto più peso nell'escludere la responsabilità che non nel supportarla. E perché? Perché c'è uno stato una... cosa significa questa conclusione? Questa conclusione significa che la prova scientifica negli Stati Uniti, dove ha una grande diffusione, soprattutto nei processi civili, dove ci sono le assicurazioni, eccetera, eccetera, che dominano, molte volte è una prova spazzatura o comunque una prova che ha bisogno di una grande attenzione, di un controllo critico che è demandato ovviamente al giudice. Perché il ruolo del giudice è proprio questo? Il giudice è quello del ruolo critico in presenza delle diverse teorie esplicative antagoniste. e molte volte il giudice, per valutare, voglio dire, l'attendibilità dell'una piuttosto che l'altra, deve essere anche supportato da esperti che in un qualche modo forniscono elementi di giudizio per la validazione dell'una piuttosto che dell'altra teoria. Ma qual è lo stato invece della nostra giurisprudenza per quanto riguarda la prova scientifica? Beh, a tutti voi sarà noto la sentenza delle sezioni unite del 2002, del luglio del 2002, imputato franzese. Che cosa ci dice questa sentenza in termini così molto sintetici? Ci dice che ovviamente il modello logico può assolvere nel processo penale allo scopo esplicativo della causalità tanto meglio quanto più alto è il grado di probabilità di cui l'explananza sia portatore. cioè perché in questi casi abbiamo delle leggi scientifiche che hanno frequenze di ripetizione degli eventi nell'ambito sperimentale molto elevato. Quindi esprimono un coefficiente probabilistico prossimo a uno o comunque molto elevato. Però, dice la sentenza, è indubbio che questi, che i coefficienti alti ci diano, diciamo, tranquillità nella acquisizione e valutazione di questa prova scientifica. Però, anche i coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista, e oramai molte delle scienze che noi utilizziamo, da quelle epidemiologiche in particolare, ma anche ad altre, ci danno dei coefficienti medio-bassi di probabilità. e impongono, in questo caso, delle verifiche molto attente, puntuali, soprattutto sugli elementi circostanziali. E, ancora prima, sulla scientificità della legge che viene posta, sull'attendibilità. Quindi una verifica attenta. Però, si dice, anche queste leggi scientifiche, che hanno questi coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista, possono essere utilizzati se sono corroborati dal positivo riscontro probatorio. circa la sicura incidenza nel caso, scusi, circa la sicura non incidenza nel caso concreto, di fattori interagenti in via alternativa. Cioè, che non vi sia una concausa, o meglio, non concausa, scusate, una causa escludente, la causa. Invece che si ipotizza essere stata la causa produttrice dell'evento. E sono necessari, e si dice, quindi, dei riscontri probatori. Secondo, quelli che sono le logiche argomentative proprie del giudice. E si pretende che vi sia, in questo caso, alla fine del ragionamento probatorio, un alto grado di credibilità razionale o di probabilità logica che determina quella certezza processuale che è la verità raggiungibile per mezzo dell'accertamento nell'ambito processuale dei fatti. Ed è una verità, indubbiamente, solo probabile. Quella certezza processuale è che si può acquisire e che deve avere il massimo grado di conferma attraverso un procedimento logico che nel suo progredire passa attraverso le verifiche, le confutazioni, le corroborazioni, e che rimane convalidata quando resiste alla proposizione e valutazione di ipotesi alternative. Questo è, quindi, il punto di approdo della nostra giurisprudenza. Può essere soddisfacente, non soddisfacente, perché? Perché qui si vengono ad assommare, in questa sentenza, che è indubbiamente il frutto di una mediazione, da un lato l'incertezza che può dare una legge scientifica con una frequenza probabilistica medio-bassa. E quindi è problematico dire che sia una legge di copertura affidabile. E si assomma poi anche quella corroborazione che si ritiene possa essere dato dall'alto grado di probabilità logica, dove possono essere reintrodotte in tutta la loro ampiezza argomentazioni tutte interne al principio del libero convincimento e quindi generalizzazioni del senso comune, massime di esperienza, non legate neppure esse, diciamo così, a una scientificità, quantomeno così, una scientificità minima, basata, diciamo così, sulle prassi, sugli usi, sulle abitudini. E allora, ancora una volta, qui viene in essere quell'interrogativo che ci siamo posti all'inizio, eh va bene, ma in questi casi allora, se usiamo queste leggi che poi alla fine ci danno queste incertezze, non è che attraverso, diciamo, lo schema di una legge scientifica, l'espediente dell'utilizzo della legge scientifica, noi invece decidiamo sulla base di opzioni valoriali. valoriali, certo, opzioni valoriali che possono oscillare tra il privilegio della tutela delle vittime oppure le ragioni dell'imputato, ma in tali casi però voi capite che il ragionamento ci porta a decisioni che possono poi contraddire quelle che sono le diciamo possono tradire quella che è una giusta sentenza. Ecco che quindi si pone diciamo così in termini piuttosto seri il ruolo del giudice ma anche il ruolo della scienza nell'ambito del processo. Qui non si tratta solamente di avere criteri epistemologici comuni o di avere anche un linguaggio comune si tratta soprattutto di avere comportamenti che abbiano da parte dell'esperto una forte adesione a quella che è la deontologia processuale. L'esperto qui non viene tanto per fare esperimenti scientifici che potrà fare nel proprio laboratorio ma viene a portare una scienza che può essere determinante ai fini della decisione da parte del giudice nonostante che il giudice svolga questo ruolo di controllo. Bene, questa era la prima parte diciamo sulla causalità e sul nesso di causalità però vedete oggi proprio questo mondo della modernità e questa insoddisfazione anche che deriva dall'utilizzo della scienza nell'ambito del reato di evento nel reato di evento ci ha portato la scienza giuridica a introdurre dei reati di pericolo reati di pericolo astratto oppure reati di imputazione obiettiva dell'evento e si devono fronteggiare i grandi problemi dei pericoli tecnologici i grandi problemi del pericolo atomico i pericoli legati all'effetto serra e quindi voglio dire all'inquinamento del pianeta e quindi il pericolo bioecologico i pericoli connessi all'ingegneria genetica eccetera per contrastare secondo taluni o contenere questi pericoli possono essere svolti dalla scienza penalistica degli tentativi per suggerire la elaborazione di un nuovo diritto penale costituito da norme comportamentali sganciate dal danno e anche dal pericolo di danno quindi non siamo più di fronte a un pericolo di evento neppure a un diritto penale di pericolo astratto con riferimento a beni giuridici concreti insomma sono quelle norme che pongono e prescrivono i valori limiti delle emissioni dell'industria della presenza di sostanze tossiche negli alimenti le norme di natura ambientale e che talvolta prescrivono comportamenti slegati da ogni pericolo di danno sono i cosiddetti limiti soglia che vengono posti da agenzie regolamentatrici per esempio in America o qui anche da leggi regolamenti che fissano valori massimi consentiti e la determinazione come avviene avviene individuando il livello al quale non si verifica nessun effetto dannoso conosciuto previsto per la salute delle persone e si applica poi un fattore di sicurezza che fa salire quel livello a un limite normalmente superiore di 10 di 100 di 1000 o di più volte il superamento di questi limiti non è che dia pericolo ad un non dà vita ad un pericolo reale perché l'impiego di fattori di sicurezza sta a indicare che non ci si trova più sul terreno delle classi di dosi o di esposizioni che sono capaci di generare gli effetti osservati e a questa teoria del diritto penale del comportamento ovviamente si sono elevate delle critiche innanzitutto questa teoria del comportamento se vuole salvaguardare il pianeta dalla sua potenziale autodistruzione insomma non ci può essere un diritto penale che possa contrastare o limitare tutto questo perché le minacce ecologiche sono globali perché i danni perdono le loro limitazioni che sono spazio temporali e un diritto penale che si rispetti deve por sempre essere legato non solo al bene giuridico da tutelare ma anche alla responsabilità personale e allora è chiaro che questi effetti disastrosi semmai possono essere affrontati attraverso autoregolamentazioni o con politiche di carattere globale e di fronte a tutto ciò il diritto penale si rivela uno strumento abbastanza impotente ma se vogliamo anche restringere diciamo così gli effetti e localizzarli certo queste norme vengono poste a protezione di beni di beni giuridici come sono la salute in particolare e però il riferimento al bene giuridico in questo caso è un criterio di legittimazione perché se non c'è un bene giuridico concretamente tutelabile attraverso queste norme di carattere questi precetti che pongono delle soglie allora si pone il problema il problema che è quello del principio di tassatività la corte equisciazionale è intervenuta di fronte a queste norme diciamo precettive ponendo una condizione la discrezionalità della legislatore nell'individuare e tipizzare situazioni cui riferire una valutazione di pericolosità di pericolosità incontra il limite della manifesta irragionevolezza e questo sta a significare che se si pongono dei limiti questi devono essere dei limiti ragionevoli e devono eventualmente il superamento di questi limiti incidere davvero sulla lesione di un bene giuridico in concreto anche negli Stati Uniti tutto sommato questi limiti di soglia che dovrebbero poi determinare la cui violazione dovrebbe determinare l'applicazione della sanzione penale e sono stati messi in discussione i limiti delle agenzie dell'EPA o dell'OSHA eccetera sono stati messi in discussione da tutta la giurisprudenza americana perché molte volte si basano arbitrariamente su estrapolazioni lineari dei rischi conosciuti ai rischi stimati oppure usano l'estrapolazione dall'animale all'uomo agli effetti di individuare le dosi rischiose ma passando dalle alte dosi degli esperimenti sugli animali alle basse dosi di esposizione dell'uomo quindi anche in questo caso le corti hanno americane hanno preteso che vi fosse un grado di danno concreto dalla violazione e vi fosse oltresì anche l'intento criminale del trasgressore quindi ci troviamo di fronte a anche qui a una forte critica se vogliamo utilizzare queste norme di carattere precettivo e precauzionale nell'ambito penale che mi paiono giuste e correlati a quelle che è il nostro sistema giuridico basato sulla tassettività e sulla personalità della responsabilità penale ho finito allora quali possono essere invece gli ambiti di rilevanza che potrebbero essere riconosciuti al principio di precauzione sul terreno giuridico penale può essere un criterio affidabile nel quadro di una valutazione nella quale si tenga conto della probabilità delle conseguenze pregiudizievoli per la salute umana di un certo prodotto o di una certa procedura o della gravità di tali conseguenze e direi possiamo anche andare al di là il principio di precauzione non deve necessariamente essere legato a una sanzione o una responsabilità penale io credo che si possa prescindere dalla rilevanza penale o dalla sanzione penale nell'adozione del principio di precauzione e un esempio l'abbiamo nella legge sulla responsabilità penale degli enti cioè nel decreto legislativo numero 231 01 001 dove 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 praticamente si vedono si si inseriscono si inseriscono delle norme che impongono un'autoresponsabilizzazione un autocontrollo da parte delle imprese sono gli articoli 5 e 6 attraverso i program compliance che in un qualche modo responsabilizzano nel caso di inosservanza di questi programmi di cautela e di controllo gli stessi organi dirigenziali dell'impresa cioè di quella impresa che conosce quelli che sono tutto sommato i processi produttivi i possibili rischi che ne possono derivare e in tal caso è allora compatibile un intervento che anche se non di carattere penale ma amministrativo attraverso le prescrizioni ma attraverso anche la revoca delle licenze o la sospensione eccetera eccetera quindi attraverso interventi amministrativi e penali possono comportare delle conseguenze forse più direi che hanno maggiore effettività di una sanzione penale al singolo perché vengono a intervenire sulla attività imprenditoriale vi ringrazio per l'attenzione io credo di aver posto semplicemente dei problemi attraverso questa mia relazione a largo spettro e spero di poter approfondire poi nell'ambito della tavola rotonda alcune di queste mie affermazioni valutazioni vi ringrazio per l'attenzione ringraziamo a nostra volta il consigliere salvarani che ci ha già introdotto in media stress prospettandoci il panorama generale della discussione dei termini in materia di processo leggi scientifiche causa partendo dai presupposti anglosassoni e giungendo fino a noi con la prospettazione del diritto penale comportamentale con i pericoli i rischi che ci ha spiegato e che sono stati illustrati già dalla Corte Costituzionale posso dire che nell'esperienza della battaglia quotidiana d'aula noto una certa renittenza del magistrato della cultura del magistrato ad adeguarsi alla legge scientifica e nel tenerne conto fino in fondo seguendo quel certo tipo di critica che già il consigliere ci ha spiegato vale a dire che viene detto che molto spesso la legge scientifica serve per scusare più che per scusare però questo è un problema che effettivamente deve essere più sentito a mio modesto avviso e potrebbe esserlo se si giungesse a una più netta separazione del processo penale da quello civile e del concetto di prova e di responsabilità in penale e civile cosa che dovrebbe essere facilmente raggiungibile oggi con un codice di procedura penale che ha separato onestamente i due argomenti ragion per cui anche tante spinte emotive potrebbero la tutela della vittima eccetera potrebbero trovare più ragionevole conforto a mio avviso nel procedimento civile se si arrivasse a una separazione più netta dei concetti di responsabilità penale e civile comunque questa è soltanto una mia idea passiamo alla seconda relazione è il professor Piero Boccardo del Politecnico di Torino che ci parlerà della geomatica nel procedimento penale per l'omicidio di Chiara Poggi come vedete dalla teoria passiamo subito alla pratica grazie professore grazie avvocato ringrazio innanzitutto il professor Luciano Surace per avermi invitato a parlarvi di questa cosa e apprezzo notevolmente questo sforzo che Asita ha fatto nel cercare di ampliare le sue tematiche prima di iniziare volevo giusto fare tre precisazioni una precisazione e qualche avvertenza la prima precisazione è che come vedete questo è un lavoro che è stato svolto da più persone io in questo caso sono esclusivamente il portavoce di un lavoro assolutamente di equip la seconda avvertenza è che purtroppo dovrò parlare di cose e farvi anche vedere delle immagini abbastanza crude per cui spero che questo non urti la vostra sensibilità però volevo avvisarvi prima e in terzo luogo una cosa assolutamente non irrilevante nel senso che come vedete nel titolo parlo del procedimento penale in merito all'omicidio di Chiara Poggi senza fare nessun riferimento relativo alla toponomastica e vedremo poi questo lo sapete tutti è successo a Garlasco sono stato implicato anche dal GIP rispetto all'omicidio di Samuele Franzoni quindi Cogne e devo dire che dal punto di vista personale e poi anche per quello di cui mi occupo veramente soprattutto Cogne in questo momento è nell'immaginario di tutti come luogo dell'omicidio di questo bambino e addirittura ci sono dei tour che vanno a visitare la villetta Garlasco non ha questa vocazione turistica però in ogni caso anche adesso quando si parla di Garlasco si fa riferimento a queste quindi vorrei che si facesse particolarmente attenzione perché veramente a Cogne che è un bellissimo posto turistico in realtà questo suo nome è fortemente deteriorato e anche delle conseguenze economiche relativamente al fatto che sia successo un evento criminoso quindi cercherò di fare riferimento alle persone e non tanto ai luoghi geografici allora che cosa tratterò in questa relazione un'introduzione generale poi dovrò parlare del materiale documentale depositato agli atti perché vedrete che è particolarmente importante descrivere molto brevemente le procedure tecnico-operative utilizzate per i rilievi la fase di elaborazione dei dati la risposta ai quesiti che mi erano stati posti all'epoca e poi alcune conclusioni che spero possono essere magari oggetto di una discussione all'interno della tavola rotonda allora l'introduzione l'introduzione è relativa al fatto che come vedete ad agosto il 13 agosto 2007 viene rinvenuto il corpo di questa ragazza che si chiama Chiara Poggia Garlasco in provincia di Pavia e da queste notizie di stampa che non sono assolutamente irrilevanti come vedete scritto in rosso secondo le prime ricostruzioni così riporta il giornalista la vittima avrebbe aperto al suo aggressore quindi c'è già una fattispecie molto particolare quindi evidentemente la vittima conosce l'aggressore sulla porta della villetta non ci sono infatti segni di scasso questo viene verificato istantaneamente il corpo della ragazza è stato ritrovato sulle scale della cantina anche questo non è del tutto irrilevante e subito dalle prime ispezioni che vengono fatte da diversi nuclei operativi dei carabinieri si comincia a interrogare Alberto Stasi qua c'è stata solamente la S perché non si voleva ancora dare evidenza di questo fatto questo universitario di 24 anni bocconiano di Milano che viene veniva in quel momento interrogato e questo è molto importante per quello che dice proprio nell'imminenza del ritrovamento del corpo come persona informata sui fatti allora qua ci sono delle foto che sono assolutamente interessanti quella è chiara e quelli sono i primi rilievi che vengono fatti dalla compagnia di Garlasco seguiti da quella di Pavia e poi sapete esiste tutta è uno degli eventi mediatici del periodo anche perché forse ad agosto non c'era tant'altro da parlare ma questo ha creato notevole problemi anche al sottoscritto soprattutto perché all'inizio si sono stati delle fattispecie particolari vi ricordate delle due gemelle di cui una anche deceduta dopo poco tempo in cui c'erano dei fotomontaggi eccetera eccetera in cui si è anche svolta un'attività investigativa che poi si è dimostrata assolutamente non pertinente perché erano fondamentalmente due mitomani queste ragazze però questo ha creato un battage mediatico non indifferente allora il delitto avviene il 13 agosto del 2007 il 6 dicembre del 2007 quindi ben dopo il delitto mi viene conferito questo incarico e devo premettere che prima del conferimento dell'incarico nel momento in cui fui chiamato dal pubblico ministero la dottoressa Muscio mi riservai di accettare questo incarico previa primo sopralluogo sul luogo dell'omicidio per capire se era possibile rispondere alle domande dal punto di vista tecnico che mi venivano poste dopo questo primo sopralluogo che feci allora il 6 dicembre mi fu chiesto e mi fu conferito questo incarico che aveva una fattispecie che tendeva ad analizzare due fattispecie cioè come vedete in rosso mi si chiede di verificare come i movimenti che l'imputato dichiarava di aver effettuato all'interno dell'abitazione della famiglia Poggi di verificare le caratteristiche antropometriche dell'imputato stesso e delle caratteristiche delle scarpe che gli vennero sequestrate subito dopo il ritrovamento del corpo e per cui la domanda fondamentale era quella che mi si chiedeva se sia possibile percorrere lo spazio tra la porta d'ingresso dell'abitazione e i locali indicati allo stasi nelle predette dichiarazioni che poi vediamo sono abbastanza documentate secondo il percorso con le modalità riferite dalla persona sottoposta alle indagini senza calpestare le macchie di sangue perché come vedrete questo purtroppo potrebbe urlare la vostra sensibilità c'era molto sangue sul pavimento stasi afferma di essere entrato la mattina del 13 agosto di aver rinvenuto il cadavere della fidanzata di aver subito chiamato i carabinieri che entravano nel momento in cui però gli vengono sequestrate le scarpe sulle scarpe non vengono rinvenute tracce ematiche per cui l'ipotesi dell'accusa è molto lineare molto semplice cioè dicono se hai rinvenuto il cadavere sei entrato in questo ambiente che era molto imbrattato di sangue e non ti sei imbrattato le suole delle scarpe dal momento in cui noi pensiamo che invece possa essere molto probabile che sia avvenuto il contrario cioè che tu hai entrato dovevi imbrattarti le scarpe se le scarpe non sono imbrattate vuol dire che tu hai mentito cioè che in realtà non sei mai entrato in quella casa e per cui la descrizione che facevi della scena del crimine non poteva che essere relativa al fatto che tu fossi il colpevole di questo e questo mi viene conferito il 6 dicembre quindi il 6 dicembre capito da agosto sono passati 4 mesi nel frattempo la villetta della famiglia è sotto sequestro allora quali sono i materiali depositati agli atti il materiale depositato agli atti è molto corposo e riguarda fondamentalmente le dichiarazioni rese dallo Stasi stesso che al momento era una persona sottoposta alle indagini comprensive anche vedete di uno schizzo che lui fa circa i movimenti che esegue all'interno dell'ambiente nel momento del ritrovamento del corpo di Chiara Poggi e poi tutta una serie di materiale fotografico che viene acquisito da una pluralità di attori dal corpo del carabiniero di Vigevano da quelli di Pavia dai RIS di Parma che vengono dopo due giorni e dal medico legale che è il primo che subito dopo i carabinieri di Vigevano che entra in questa sala quindi vedete ci sono varie acquisizioni fotografiche che ovviamente dal nostro punto di vista tecnico non hanno nessuna caratteristica di metricità o di altra cosa ma servono solamente a documentare ci sono un grosso repertorio fotografico in cui anche da questo repertorio fotografico come vedete sul telefono in cui ci sono questi schizzi di sangue che sono sicuramente relativi al fatto che possano essere usciti secondo un movimento relativo a un'arma presunta dell'omicidio che però non è mai stata ritrovata piuttosto al fatto che vedete il corpo di Chiara viene trovato al fondo di quelle scale che vedete poste tra il garage a sinistra in questo schizzo che lo stasi fa allora a questo punto nel momento in cui mi viene conferito l'incarico abbiamo la possibilità di andare sul luogo del crimine però abbiamo questa possibilità limitata al fatto che giustamente dopo quattro mesi la casa è sequestrata la famiglia vuole rientrare in questa casa e per cui nel momento in cui entriamo sappiamo che sarà l'ultima volta che lo possiamo fare perché poi la casa dopo poco viene dissequestrata per cui il problema fondamentale che abbiamo è quello di andare e cercare di rilevare più cose possibili nel tempo che ci viene dato cioè solamente due giorni senza in quel momento sapere esattamente quali potrebbero essere i riscontri che potremmo ricalare quindi ci organizziamo ed andiamo e fondamentalmente che cosa facciamo facciamo un rilievo topografico fotogrammetrico e lo eseguiamo ovviamente sulla scena del crimine in cui vedete alcune foto e un rilievo anche laser scanner per ricostruire l'ambiente tridimensionale che poi si dimostra non fondamentale però al momento non lo sapevamo quindi abbiamo deciso di acquisire tutto il possibile in modo da poter poi cercare di averne un'evidenza questo viene eseguito in due giorni tra il 20 e il 21 dicembre e registriamo tutta la sequenza delle operazioni con delle videocamere in modo da dare una testimonianza di quello che è stato fatto ovviamente la scena del crimine è molto inquinata nel senso che è assolutamente impossibile visto che quando sono arrivati poi i RIS hanno coperto fondamentalmente tutto l'ambiente di lumino quindi non erano più così visibili le tracce di sangue erano entrate decine di persone nel frattempo che pure indossando calzari tutto eccetera eccetera avevano sicuramente lasciato delle tracce di tipo biologico per cui sicuramente quella non era il momento in cui potevamo acquisire dei dati che potessero essere usati come evidenza ma dovevamo acquisire dei dati che ci permettessero di controllare le operazioni seguenti allora quindi che cosa facciamo fondamentalmente vedete facendo le prese fotogrammetriche qua non vorrei dilungarmi più di tanto grazie al fatto che ci sia c'era all'epoca ma non è cambiato un pavimento molto regolare di gress eccetera eccetera su cui ci sono anche dei che ovviamente è molto imbrattato dal punto di vista ematico e ci sono anche dei segnali che hanno lasciato i RIS misuriamo fondamentalmente tutto quello che è possibile misurare per cercare di ricostruire e lasciare il crimine perché questo era il nostro problema fondamentale nel frattempo acquisiamo anche con un laser scanner terrestre acquisiamo l'ambiente 3D e grazie al fatto di avere anche delle camere ad alta risoluzione digitali non facciamo altro che prendere queste immagini e modellarle sul 3D che dal punto di vista tecnico non è ovviamente un grosso problema per chi si occupa di queste cose per avere una vista tridimensionale che ci permetta di riconoscere i particolari oggetti e dettagli nel frattempo però e questo lo facciamo ovviamente a Garlasco nella villetta Poggi nel frattempo mi vengono consegnate le scarpe che sono poste sotto sequestro che sono queste scarpe la cost che poi ne vengono acquistate svariate in paia da altri periti per cui il nostro problema era quello nel momento in cui mi chiedeva se era possibile entrare senza imbrattarsi abbiamo subito capito che sarebbe stato fondamentale costruire un modello tridimensionale di queste scarpe e in particolare della suola come vedete che non è liscia per cui bisognava assolutamente costruire il modello tridimensionale di questa suola per averne poi una proiezione poi vediamo dopo come in modo da garantire e questa è un'ipotesi cautelativa per l'imputato il fatto che se camminando sopra delle macchie di sangue queste macchie di sangue non intercettassero una superficie in contatto perché vedete che la suola è caratterizzata concavità ovviamente avrebbe potuto non imbrattare la sua stessa quindi era assolutamente necessario acquisire anche questo dato a questo punto parte l'elaborazione dei dati vorrei essere abbastanza veloce su questo aspetto noi non sappiamo cosa a priori cosa dovremmo fare abbiamo un'idea ma non sappiamo esattamente poi con il materiale depositato agli dati cosa riusciamo a ricostruire quindi con classiche procedure fotogrammetriche orientiamo le strisciate soprattutto relativamente al pavimento e poi generiamo raddrizzamenti ortofoto digitali perché la cosa fondamentale era quella di avere soprattutto per quanto riguarda il pavimento un raddrizzamento fotografico che ci permettesse di ricostruire così com'era allo stato dei fatti il pavimento ovviamente le nostre immagini sono acquisite in una scena assolutamente inquinata però è importante generarlo anche su questa scena inquinata per poi procedere a raddrizzarlo anche sul materiale agli dati allora come vedete Andrea Lingua che è qua presente fa un consistente sforzo perché genera un software per cercare di utilizzare questi dati acquisiti come vi ho detto prima queste immagini acquisite dai vari corpi dei carabinieri eccetera eccetera che ovviamente non hanno nessuna caratteristica metrica di cui però conosciamo le caratteristiche delle camere e quindi fondamentalmente qui il problema è di calibrare gli obiettivi di queste camere per darne una qualche valenza metrica quindi nel momento in cui generiamo ad hoc un software che ci permetta di fare questo prendiamo le immagini agli atti che per la prima volta verifichiamo coprire la gran parte della scena del crimine soprattutto del pavimento e a questo punto generiamo un raddrizzamento un ortofoto vedete che ci sono dei consistenti imbrattamenti ematici soprattutto di fronte alla porta della cantina in cui viene ritrovato il corpo perché l'ho tralasciato ma il secondo quesito che mi veniva posto era se l'imputato potesse aprire questa porta per vedere dove era il corpo secondo le modalità che lui aveva descritto considerando il fatto che davanti a quella porta perché poi il corpo viene trascinato e buttato giù dalle scale c'era un consistente imbrattamento ematico quindi viene costruito con i materiali agli atti cioè quindi come se avessimo cristallizzato la scena del crimine subito dopo il rivenimento del cadavere ricostruiamo un raddrizzamento digitale che ci permette di documentare tutto il pavimento della scena così come è stato ritrovato ovviamente eseguiamo e questo per poterlo fare eseguiamo un rilievo topografico compensiamo questo rilievo topografico facciamo un sacco di misure con tutti i particolari visibili soprattutto sulle intersezioni delle piastrelle del pavimento e arriviamo alla conclusione che fondamentalmente tutte le operazioni che abbiamo fatto per determinare le coordinate planimetiche del pavimento sono sicuramente congrue rispetto all'accuratezza e alla precisione che ci aspettiamo di questi elaborati detto questo a questo punto sorge il problema di creare un modello della suola della scarpa e questo modello viene creato utilizzando questa acquisizione con l'asa scanner che ci permette di determinare soprattutto le aree di vuoto della scarpa in modo da non considerarle come potenzialmente calpestabili il sangue un problema aggiuntivo deriva dal fatto che vedete come è fatta la sezione di questa suola prendiamo in considerazione anche il fatto che durante una camminata normale il piede possa anche rullare per cui in realtà questo è un problema di tipo geometrico dobbiamo capire se riproiettare in maniera ortogonale questa suola oppure se svilupparla su una superficie che soprattutto rispetto alla punta è cilindrica perché questo ovviamente modifica la proiezione della suola terra procediamo in entrambi i casi quindi creando più campioni a questo punto vediamo anche con tutte le misure fatte con il laser scanner per fornire anche agli altri consulenti tecnici tutte le informazioni che derivano da cose che non stanno nella componente planimetrica del pavimento ma anche schizzi sui muri e via dicendo allora l'ultima fase di elaborazione dei dati è quella una volta costruito il raddrizzamento con le immagini originali quella di creare una carta delle tracce matiche che vedete sfumata sulla destra questo è un ambiente relativamente piccolo cioè sono circa 7-8 metri dall'entrata fino al fondo dell'ambiente di questo corridoio è molto imbrattata vedete con delle grosse pozze e davanti l'ultima che vedete in alto in alto a destra è quella che sta davanti alla porta a soffietto in cui viene ritrovato il corpo quindi viene fotointerpretata prima con l'ausilio di algoritmi semi-automatici ma è sicuro che dal punto di vista tecnico non avevamo grossi dubbi sul riconoscimento di questo sangue che soprattutto dal punto di vista cromatico e radiometrico era molto diverso dalla tinta del pavimento quindi non è stato un grosso problema comunque l'abbiamo poi verificata macchia per macchia fotointerpretando e facendolo fotointerpretare a più persone in modo di garantire una congruità di questa interpretazione a questo punto quindi proponiamo di rispondere ai quesiti proposti abbiamo tutti i dati di base abbiamo questo tracciato ematico abbiamo le suole delle scarpe e a questo punto esattamente come si diceva nell'azione precedente pensiamo di fare uno sperimento scientifico e questo sperimento scientifico deve avere chiaro l'obiettivo che deve perseguire deve individuare le possibili conseguenze dell'ipotesi in ambito osservazionale e stabilire le modalità con cui vengono raccolti i dati per cui noi di tutti i dati raccolti di tutti quelli che ci vengono forniti agli atti abbiamo una sorta di metadattazione cioè sappiamo qual è soprattutto il contenuto metrico il contenuto radiometrico eccetera eccetera e quindi passiamo nella risposta a questi quesiti a cercare di modellare la camminata cioè il problema che ci poniamo è cerchiamo di capire quali potesse essere in base alle dichiarazioni fatte dello Stasi come poteva entrare in questa stanza e quindi il problema che ci si pone è quello di capire durante una camminata relativamente ai caratteri antropometrici di cosa dobbiamo tenere conto dobbiamo fondamentalmente tenere conto di questi aspetti cioè della falcata cioè dell'interasse tra i due baricentri delle scarpe nel senso di direzione della camminata l'interasse in senso trasversale e poi un possibile angolo di rotazione perché non è detto che i piedi vengano sempre poggiati perpendicolarmente parallelamente alla traccia di camminata a questo punto quindi per semplicità dal momento in cui l'indagato dice di essere entrato secondo il percorso A di stazionare nel punto D di stare davanti alla porta B in cui rinviene il corpo e poi di correre all'uscita C noi separiamo i vari percorsi partendo dal presupposto che quello che vogliamo calcolare è una probabilità combinata per cui possiamo scorporare i diversi tragitti in modo da calcolare per ogni singolo tragitto la probabilità e poi calcolare quella combinata che ci darà la risposta al nostro quesito allora come facciamo questa cosa? è un problema abbastanza complesso di cui però abbiamo i dati di base anche qua decidiamo di fare un codice che ci permetta di calcolare questa evenienza e in particolare per gli addetti ai lavori non facciamo altro che creare un codice che utilizziamo all'interno di Argis in cui vengono fondamentalmente preso l'ingombro della sala che abbiamo misurato topograficamente e la mappa la carta delle macchie ematiche poi definiamo un punto di partenza che è più o meno in prossimità della soglia rispetto all'apertura della porta poi vediamo qual è l'area calpestabile effettiva e poi inseriamo i valori minimi e massimi un range di quei tre parametri che vi dicevo prima cioè la falcata la lunghezza della fancata l'interasse tra i piedi e l'angolo di rotazione e poi il numero di cicli e il percorso di cui estragliamo tutti i dati questa è una rappresentazione grafica in real time cioè quindi c'è un punto di partenza e poi vengono generate tutta una sequenza molto grande di possibili percorsi verificando ad ogni singolo percorso se nel momento c'è esista un'intersezione tra le suole e le macchie ematiche per esempio vedete che in quel caso c'è sicuramente almeno due o tre intersezioni della suola rispetto a quelle macchie ematiche la stessa cosa la facciamo anche davanti alla cantina perché lui dice di aver aperto questa porta soffietto che non si ricorda che sia soffietto e soprattutto nel momento in cui riferisce nell'immediatezza del ritrovamento confonde il verso di apertura che è abbastanza rilevante perché vedete che si apre da sinistra verso destra ed è a soffietto mentre lui è destro quindi ha una postura un po' diversa rispetto a quella che lui ha affermato e per cui verifichiamo davanti in questo piccolo spazio esattamente in maniera più o meno similare a quello che abbiamo fatto prima come potevano essere mossi i piedi ovviamente usando degli interassi diversi di fronte all'apertura di questa porta per vedere se poteva non pestare le macchie di sangue di fronte ad ogni possibile tragitto generiamo un file che è facilmente distribuibile allora questi sono fondamentalmente risultati in cui arriviamo in cui di tutti questi percorsi ne generiamo qualcosa come più di 800.000 percorsi per cui è un campione sicuramente statisticamente rappresentativo e significativo in cui vengono calcolate le evenienze di più di 10 milioni di passi diversi quindi più di 10 milioni di impronte di tutto questo insieme però ce n'è circa il 50% che è ragionevole perché nel momento in cui vengono generati casualmente questi valori ovviamente una camminata può andare contro il muro eccetera eccetera quindi deve essere eliminata perché non è assolutamente ragionevole che sia così per cui verifichiamo nelle ultime tre colonne che in tutti questi tre quasi 400.000 percorsi che vengono simulati mediamente le impronte toccano almeno 3,3 macchie di sangue come valore minimo e come massimo 10 quindi mediamente abbiamo circa ogni percorso interseca circa 5 macchie di sangue per cui se dobbiamo calcolare una probabilità la probabilità è assolutamente nulla in nessuna di queste possibili modellazioni le camminate non intersecano del sangue allora vediamo quali sono le conclusioni cioè i risultati che abbiamo ottenuti allora in primo luogo dall'elaborazione che abbiamo effettuato risulta che se consideriamo l'imbrattamento ematico del pavimento e la configurazione geometrica delle sue delle scarpe che l'imputato ha affermato di indossare al momento del ritrovamento e forse non ho detto che nel momento in cui vengono analizzate queste scarpe non ci sono tracce ematiche per cui l'accusa dice evidentemente probabilmente tu non ci sei mai entrato con queste scarpe e quindi hai mentito e quindi non puoi sapere come era la scena del crimine a meno che non sia stato tu e quindi anche rispetto alla modellazione antropometrica delle diverse camminate la probabilità è praticamente nulla a meno che non si tolgano tutte delle nuvole di piccolissime macchie sotto qualche millimetro quadrato di superficie perché nel momento in cui io deposito la perizia vengono anche fatte delle deduzioni a cui io rispondo con delle contradduzioni a cui vengono fatte delle ulteriori deduzioni a cui io rispondo con altre contradduzioni per cui si afferma anche che ci potrebbe essere l'ipotesi che piccole macchie di sangue si possano essere coagulate che quindi non possano in ogni caso avere o generare dei residui sulla suola per cui decidiamo anche di togliere tutte queste macchie ematiche che sono molte quelle piccole soprattutto quelle dovute a schizzi per contatto dell'arma e verifichiamo che comunque la probabilità di passare senza toccare è molto ma molto bassa stiamo parlando di 6 probabilità su 100.000 calcolate avendo tolto l'80% di tutte le macchie per cui risulta abbastanza ovvio che non esista statisticamente una possibilità di eseguire tale esplorazione senza un possibile imbrattamento ovviamente se invece consideriamo di togliere molte macchie ovviamente questa probabilità aumenta tale probabilità condizionato ammette un risultato non nulla come vi dicevo prima solamente se togliamo tutti questi imbrattamenti secondo diverse soglie quindi noi facciamo anche queste procedure conclusioni e vado a terminare i vantaggi delle metodologie eventuali criticità ma sicuramente devo dire che in questa prima esperienza l'approccio geomatico proposto si è dimostrato adeguato nel senso che effettivamente siamo riusciti a rispondere a un quesito in maniera direi scientifica e probabilistica simulando quello che potesse essere le modalità di esplorazione dell'imputato e che fornendo anche dei risultati che ci pagliano abbastanza chiari e facilmente interpretabili anche per i non esperti devo dire che a posteriori poi il gruppo ha nominato un altro consulente che ha ribadito esattamente quello che era stato fatto da noi però non essendo il giudice troppo certo di una simulazione così come abbiamo fatto noi fece ricostruire un ambiente utilizzando la nostra mappa ematica che l'abbiamo fatto a Milano al Dognocchi all'istituto venne chiesto all'imputato che si prestò a questa prova di camminare anche perché lui il giudice pensava che potesse avere anche delle caratteristiche diverse di Falcata per cui vennero misurate in tempo reale esattamente sperimentalmente noi l'avevamo fatto attraverso una simulazione lì viene fatto utilizzando e chiedendo all'imputato di farlo soprattutto perché emersa una fattispecie abbastanza complicata per cui il consulente tecnico a difesa affermò il fatto che potesse esistere inconsciamente un evitamento cioè si afferma che inconsciamente uno possa evitare particolari ostacoli per cui di fronte al fatto di una pozza di sangue anche magari non vedendo le condizioni di illuminazione nella casa erano molto scarse perché era tutto chiuso le imposte non sono chiuse però affermò questa cosa il giudice disse che questo poteva essere possibile per cui a quel punto si procedette con questa cosa che però riconfermò esattamente i risultati cioè probabilità praticamente nulla di non imbrattare allora devo dire che le conclusioni riportate e mi torna molto utile quello che ha detto il consigliere nella relazione precedente sono ovviamente basati in termini di probabilità statistica però è vero che durante la fase dibattimentale queste assunzioni pongano dei limiti interpretativi perché mi fu chiesto più volte ma rispetto all'assunzione di ogni oltre oltre ogni ragionevole dubbio la difesa mi chiese giustamente ma lei può affermare che questo sia impossibile che avvenga io ho detto no in determinate condizioni ovviamente non posso affermarlo per cui la strategia della difesa era fondamentalmente incentrata sul fatto che se esiste anche una sola possibilità sulle milioni di possibilità o sulle centinaia di migliaia di possibilità che abbiamo simulato se anche ne esiste una questa potrebbe essere quella oggetto della realtà in ogni caso però c'è una cosa che mi ricordo si disse a Bari una delle cose che mi ha visto un po' a disagio non vorrei che voi prendeste questa considerazione come autoreferenziale perché non è assolutamente così cioè effettivamente qua c'è un problema consistente che non deriva solo dalla capacità dei periti perché credo che molti delle persone qua dentro siano in grado di fare queste analisi ma ovviamente servono strumenti eccetera eccetera e quello che potrebbe essere auspicabile dal punto di vista tecnico è quello che venga definito un albo dei consulenti in quest'ambito cioè nell'ambito in cui vengono utilizzate delle procedure di tipo geomatico perché vi devo dire la verità cioè soprattutto per quanto riguarda invece il procedimento relativo all'omicidio di Samuele Franzoni francamente alcune perizie secondo me ricadevano in questo trash che si discuteva prima cioè erano veramente assolutamente ingiustificabili e devo anche dire che nelle mie contro deduzioni in due contro deduzioni che ho fatto le deduzioni degli avvocati della difesa per esempio la prima cosa che mi venne contestato è il fatto che la fotointerpretazione non fosse assolutamente un procedimento scientifico per cui anche citando una bibliografia secondo me in maniera assolutamente irragionevole per cui ho dovuto perdere giorni o settimane per giustificare il fatto che in realtà fosse una procedura assolutamente assodata facendo esempi eccetera eccetera per cui questo non è vero solamente per le parti ma è vero anche soprattutto per la difesa nel senso che spesso si si trova a avere a che fare con consulenti della difesa pensate al caso Franzoni che forse non sono molto ferrati in queste cose per cui anche per il consulente del giudice piuttosto che dell'accusa effettivamente c'è questo problema cioè di dover dialogare con persone che non hanno questa base su cui fare un discorso sereno io ho finito però vorrei solamente dire anche una cosa rispetto a quello che si diceva prima che è molto banale però sicuramente queste cose io le ho fatte e le abbiamo tutti fatto in risposta a un impegno che secondo me noi dobbiamo assumere come potete immaginare non l'abbiamo fatto assolutamente per il denaro perché veniamo pagati a vacazioni e vi assicuro che quello quanto io ho ricevuto mi è stato neanche sufficiente per ripagare le spese ma io di questo non mi voglio lamentare ma volevo solamente far emergere un paio di constatazioni la prima è che in realtà i consulenti della difesa soprattutto in procedimenti del genere ovviamente capite che quando un imputato rischia di prendersi un ergassolo è disposto a spendere molti soldi per cui fondamentalmente la disponibilità economica della difesa rispetto a quella del magistrato o dell'accusa è estremamente diversa e questo può anche far propendere al fatto che effettivamente i consulenti della difesa siano molto più agguerriti di quello che potrebbe essere il consulente dell'accusa per cui questa disparità economica francamente potrebbe creare dei problemi non nel mio caso perché sicuramente non l'ho fatto per guadagnare dei soldi ma per rispondere a quella che deve essere un'esigenza di natura civile però la seconda constatazione che è ovvia che mi capitò di sentire in dibattimento ad Ataormina ad Aosta è che effettivamente la difesa però allo stesso Astregua se fosse definito un albo avrebbe la possibilità di consultare se possibile degli esperti certificati perché uno dei problemi che lamentava Ataormina e che lamentano gli avvocati è il fatto che per esempio i RIS non possono assolutamente lavorare per la difesa e quindi avere a disposizione un albo con persone che hanno una determinata competenza una sorta di certificazione potrebbe essere estremamente utile anche per la difesa anche perché detto molto francamente per esempio Ataormina cercò molti esperti vi ricordate che poi ne scelse alcuni che adesso sono indagati per falso eccetera eccetera ne contattò molti in Italia e tutti gli risposero di fronte al fatto che di là c'erano i RIS che non volevano assolutamente partecipare per cui questo è anche ovviamente un limite per la difesa con questo terminato spero di essere stato nel tempo grazie 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 professor Boccardo scusi le dispiace rimanere sul podio un attimo io avrei una domanda da polle per cortesia so che lei il suo campo scientifico è quello del telerilevamento e immagino che sia stato proprio in virtù di queste competenze professionali che l'incarico di cui ci ha spiegato i connotati l'è stato assegnato io confesso francamente e penso che molti in sala non sappiano cos'è questo telerilevamento potrebbe darci qualche indicazione in realtà io partengo al gruppo disciplinare che si occupa di geometrica telerilevamento in realtà si occupa di fondamentalmente immagini acquisite da piattaforma satellitare o aerea che non è una tecnologia che è stata applicata qua però inerentemente al telerilevamento c'è tutta una grossa parte di processing dell'immagine che abbiamo utilizzato soprattutto per estrarre le macchie eccetera eccetera ma direi che molte delle operazioni che abbiamo fatto riguardano fondamentalmente topografia e fotogrammetria classica anche se c'è una componente di laser scanner fondamentalmente però un'altra cosa che mi pare che potrebbe anche essere oggetto di discussione che per esempio la scientifica Roma ha dei laser scanner secondo me queste metodologie soprattutto speditive con laser scanner dovrebbero essere rutinarie cioè di fronte a cose del genere nel momento in cui interviene la scientifica dal momento in cui ci si impiega abbastanza poco a farlo ed è abbastanza automatico avere una scena del crimine cristallizzata e documentata potrebbe essere sicuramente un grosso vantaggio e gli organi tecnici dello Stato hanno disponibilità di questi strumenti immagino che siamo ancora abbastanza lontani però da uno sviluppo di questo genere pratico ci sono dei grossi problemi di ordine economico cioè per esempio Miri e Ieris hanno avuto tagliato non so quanto di budget e per cui per loro è veramente anche difficile intervenire avere le persone eccetera eccetera grazie professore è stato veramente interessante la sua relazione passiamo di nuovo alla teoria questa volta un altro avvocato di battaglia Marco Vassallo figlio d'arte che sta avendo e ha tuttora esperienze professionali molto vicine e quindi potrà dirci la sua sulla relazione che ha per titolo la prova scientifica nell'ottica della difesa grazie se io ringrazio ovviamente Asita il professor Surace e la camera penale Vicentina per l'invito che mi è stato rivolto comincerò male perché comincio con delle scuse la natura composita dell'uditorio mi induce a tentare un lavoro sul linguaggio e cioè a dire i giuristi normalmente sono abituati a parlare tra loro utilizzando dei loro codici avendo di fronte un uditorio composto non solo da giuristi il mio tentativo sarà quello di cercare di trovare un linguaggio che rappresenti un minimo comune denominatore tale da poter essere compreso da tutti quanti questo ovviamente porterà si trascinerà dietro tutta una serie di difetti semplificazioni e approssimazioni delle quali spero mi vorrete scusare una primissima battuta mi sia consentita al professor Boccardo che lamentava una disparità di disponibilità economiche normalmente tra le difese e i consulenti del pubblico ministero o i periti nominati dal magistrato voglio tranquillizzarlo guardi nell'esperienza comune è vero esattamente l'opposto il 90% degli imputati non hanno le disponibilità economiche neppure lontanamente paragonabili a quelle dello Stato seppur dopo i tagli che sono stati attuati anche recentemente questo glielo posso garantire anche 95 sì dopo queste premesse tento anche di conquistare la vostra benevolenza dicendo subito che cercherò di essere il più breve possibile anche perché il presidente Salvarani ha toccato molti dei temi che io mi ero riproposto di illustrare e quindi eviterò di sovrappormi a quanto da lui molto più brillantemente di quanto sarei in grado di fare io è già stato detto allora prova scientifica prova scientifica è intanto prima di tutto una locuzione verbale che è stata chiaramente coniata dai giuristi non certo dagli scienziati i giuristi sono una colita molto strana eterogenea giuristi sono gli accademici che si occupano di diritto giuristi sono i magistrati che nel diritto fanno un'applicazione pratica giuristi sono gli avvocati che nel processo partecipano di questa applicazione pratica di precetti astratti al caso concreto tutelando gli interessi degli individui che sono coinvolti cos'è che accomuna questi differenti soggetti una formazione culturale sedimentata e un linguaggio queste caratteristiche per una serie di ragioni storiche che non posso approfondire per non annoiarvi sono ve lo assicuro quanto di più lontano si possa immaginare da quelle che hanno coloro i quali si occupano invece per professione di discipline che attengono allo studio dei fenomeni naturali e delle tecnologie che a tale studio sono dedicate vi è un altro problema tradizionalmente per impostazione culturale i giuristi normalmente coltivano questa distanza e questo in Italia in particolare ha prodotto e sta producendo tuttora una serie di guasti che sono inimmaginabili su questo il mio giudizio differisce da quello del presidente Salvarani che prima vi ha proposto una visione molto ottimistica la mia esperienza è diversa meno positiva vedo dei progressi sul piano culturale però leggo anche dei fortissimi retaggi del passato che permangono e che producono appunto danni inenarrabili credo che tutti voi abbiate letto della sentenza emessa dal tribunale dell'Aquila che ha condannato per omicidio colposo tutti i componenti della commissione grandi rischi ecco non posso esprimere giudizi non conosco il processo non c'è ancora la sentenza e quindi leggeremo però così a grandi linee mi pare che sia una sentenza che potremmo definire quantomeno piuttosto coraggiosa vedremo quali saranno i fondamenti scientifici sulla base dei quali il giudice è giunto a quell'affermazione di responsabilità dicevo l'atteggiamento medio del giurista italiano di fronte alla scienza è di altero di stacco quasi sembra quasi che si possa temere che il contagio possa portare a una sorta di pandemia distruttrice del mondo idealizzato in cui noi viviamo questo atteggiamento produce un duplice effetto da un lato una presunzione di autosufficienza per la quale ogni giurista sarebbe dotato di tutti quegli strumenti idonei a risolvere qualsiasi questione gli venga sottoposta attraverso il bagaglio della propria cultura giuridica l'esempio più evidente di questa impostazione è la formuletta per la quale il giudice è peritus peritorum saldi sopra dei periti è il perito dei periti colui il quale è in grado di decidere e scegliere l'altro effetto è lo speculare e cioè quello di un affidamento cieco e acritico rispetto alle proposizioni offerte dalla scienza quando a questa si debba fare ricorso nel corso del processo cioè quello stesso giudice che si colloca su uno scranno superiore rispetto ai consulenti di parte pur senza essere dotato di quel bagaglio culturale necessario a risolvere le tematiche tecniche che si pongono in quel processo subito dopo quando si rende conto di non essere in grado di decidere incarica un perito poi in sentenza si limiterà a ricopiare interi passi della perizia senza motivare sul perché tra le diverse soluzioni proposte dai consulenti delle parti e dal perito egli abbia scelto di appoggiarsi a quella del perito anche le sentenze della Cassazione soprattutto quelle più risalenti però qualche retaggio c'è ancora oggi giustificano tutto ciò con il principio con il ricorso al principio del libero convincimento del giudice vi cito un passo scritto da un autorevole magistrato che è il consigliere Giuseppe Gennari che è attualmente credo ancora GIP al Tribunale Milano il quale ha scritto dietro il vessillo del libero convincimento si cela la realtà della decisione delegata all'esperto nominato dal giudice il frequente ricorso al perito nei processi penali in cui si contendono opposte tesi propugnate dai consulenti tecnici di parte è regolarmente inteso come un passaggio salvifico volto ad assicurare la acquisizione di un parere imparziale perché non dominato dagli interessi di parte e quindi per definizione superiore dopodiché ben difficilmente il giudice smentisce il risultato di questa operazione di mimesi del giudicante perché tutto ciò ecco dicevo un problema di natura culturale noi soffriamo ancora i postumi della sbornia positivista e scientista di matrice tardo-ottocentesca quella secondo la quale la scienza era infallibile illimitata e unica il codice di procedura penale previgente quello del 1930 l'attuale è in vigore dal 1989 ma dal 1930 al 1989 era in vigore il vecchio codice che era la massima espressione di questa impostazione positivista il codice prevedeva che intanto la perizia fosse una sola o meglio che il giudice poteva nominare il perito la difesa si poteva avere un consulente il pubblico ministero no perché perché se la scienza è una la verità è una che bisogno c'è che il pubblico ministero abbia un consulente vi rendete conto di come questa impostazione falsasse completamente il quadro del problema la perizia inoltre si svolgeva nel segreto senza nessuna partecipazione delle parti né dei consulenti della difesa e molto spesso il consulente si limitava ad illustrare le proprie conclusioni senza approfondire la metodica in base alla quale era giunto a tali conclusioni come vi ho detto prima poi il giudice in sentenza ricopiava le conclusioni e il problema era risolto però le cose non stanno così sappiamo qualcuno ha detto che la scienza è il cimitero delle teorie superate questo era Einstein mentre Popper ha aggiunto la scienza è fallibile perché ogni metodo scientifico ha una percentuale di errore non esiste una scienza la teoria moderna della scienza è quella di un processo che è in continua evoluzione nel quale si procede per approssimazioni con e qui aggiungo io la mia impostazione filosofica con la consapevolezza che non riusciremo mai a comprendere totalmente i fenomeni naturali perché la complessità dei fattori che concorrono a ciascun fenomeno naturale è incomprimibile e la natura limitata dell'uomo non gli consente di abbracciare l'intera catena causale della quale secondo me noi possiamo osservare solo dei piccoli segmenti questo mi porta personalmente a concludere che io non credo nell'esistenza di leggi universali credo nell'esistenza dal punto di vista scientifico di leggi che abbiano una loro valenza sul piano della probabilità statistica come vi diceva il presidente Salvarani nella giurisprudenza italiana si è affermato il principio che per l'affermazione della sussistenza di un nesso causale si deve fare ricorso a una legge di copertura scientifica questo approdo è stato cristallizzato da quella sentenza mirabile che è la sentenza delle sezioni unite franzese una sentenza della quale i contenuti vi sono già stati esposti dal presidente Salvarani e quindi non intendo ripeterveli ma c'è un passaggio che a me interessa sottolineare ed è quello nel quale il consigliere Canzio che ha redatto la sentenza ha affermato che non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma o meno dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale cioè non è sufficiente una legge statistica che mi dica è probabile all'80% in generale e in astratto perché il giudice deve verificare la validità di quella legge scientifica assunta in astratto nel caso concreto escludendo nel caso concreto tutte le possibili spiegazioni alternative e ciò deve fare prescindendo dal grado di probabilità statistica di avveramento di quella legge cioè anche nel caso in cui la probabilità statistica dell'esistenza di un nesso causale che collega due accadimenti sia bassa anche in questo caso non si può escludere che si arrivi all'affermazione in sentenza dell'esistenza di questo nesso causale che va verificato in concreto e la verifica in concreto si fa attraverso la prova di falsificazione si devono verificare le ipotesi alternative ma qual è l'approdo l'approdo è che per ritornare poi nel processo e alle regole del processo l'approdo è che o questo giudizio porta a una conclusione di alta probabilità logica secondo quelli che sono i principi che secondo i criteri che il presidente salvarani prima vi ha accennato oppure al giudice non resta che una alternativa che è l'applicazione del criterio che negli Stati Uniti va sotto l'acronimo di BARD beyond any reasonable doubt al di là oltre ogni ragionevole dubbio cioè a dire che se non è raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio al giudice è imposto di pronunciare una sentenza di assoluzione il metodo attraverso il quale condurre questa verifica è l'insegnamento della sentenza francese quello del contraddittorio delle parti e obbligo del giudice è quello di darne pieno conto in motivazione la grande novità poi è quella di dire e se non ne dà conto in motivazione la Cassazione annulla la sentenza questo quadro è poi stato integrato da un'altra sentenza recente alla quale il consigliere Salvarani ha fatto riferimento ma che poi io vorrei analizzare un po' più partitamente che è la sentenza Cozzini le sentenze prendono il nome dagli imputati l'estensore è il consigliere Blaiotta è una sentenza a sezione semplice non a sezione unite che però peraltro era stata massimata malissimo dal massimario della corte di Cassazione tuttavia tuttavia è una sentenza della quale ci si è accorti sulle riviste sono iniziati i commenti e seppur lentamente è stata studiata e divulgata è una sentenza che ha introdotto a circa vent'anni di distanza rispetto agli Stati Uniti nel sistema italiano i principi che la sentenza della corte suprema degli Stati Uniti Doberr aveva sviluppato cosa ci dice questa sentenza parte da una affermazione che secondo me è fondamentale proprio per la affermazione di quello che è il concetto moderno di scienza e applicato al processo penale e ci dice la corte di legittimità non è per nulla detentrice di certezze in ordine all'affidabilità della scienza sicché non può essere chiamata a decidere neppure a sezioni unite se una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria sia o meno fondata tale valutazione attiene al fatto e al servizio dell'attendibilità dell'argomentazione probatoria ed è rimessa dunque al giudice di merito che dispone soprattutto attraverso la perizia degli strumenti per accedere al mondo della scienza al contrario il controllo che la suprema corte è chiamata a esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime cosa significa significa che il sapere scientifico non è immodificabile e che le conclusioni in cui le singole sentenze pervengono in ordine a determinate conoscenze scientifiche utilizzando determinate conoscenze scientifiche non possono nell'ambito del sistema giuridico italiano assumere un valore di precedente giuridico cioè a dire non possono essere utilizzate da giudici che emettono sentenze in processi successivi per fondare il loro convincimento in ordine alla fondatezza o meno della teoria scientifica questo è uno sviluppo fondamentale ed è uno sviluppo che segue esattamente la scia della sentenza francese ogni volta il giudice è tenuto alla verifica dell'applicabilità di quella legge scientifica al caso concreto la verifica sulla sussistenza o meno di ipotesi alternative dicevo non sono così ottimista come il presidente Salvarani perché vedete proprio questo passaggio che vi ho appena citato della sentenza Cozzini è stato esplicitamente e volutamente disatteso dal tribunale di Torino nella sentenza Eternit il tribunale di Torino nella sentenza Eternit ha affermato che l'esistenza di un nesso di causalità di un nesso eziologico tra le esposizioni successive e l'insorgenza del mesiotelioma pleurico è dimostrata dall'esistenza di numerosissimi precedenti giurisprudenziali della Cassazione e quindi al giudice non spetta in quel caso il compito di andare a verificare la fondatezza di quella di quella teoria scientifica la sentenza Cozzini infatti si occupa di un tema particolarmente tecnico è relativo all'esistenza di due differenti teorie in ordine all'efficienza causale delle esposizioni prolungate a polveri dell'amianto nell'induzione o accelerazione del mesiotelioma da un lato si sostiene che una volta innescato il procedimento cancerogenetico le esposizioni successive siano ininfluenti dall'altro c'è chi afferma che le esposizioni successive svolgano una funzione acceleratrice della malattia questa sentenza applicando i criteri che ha sviluppato non opera una scelta tra le due diverse teorie però fornisce al giudice i criteri in base ai quali poter operare nel concreto la scelta cioè gli dice cosa deve andare a cercare per operare questa scelta e con questo appunto dicevamo introduce nel sistema italiano i criteri di io non lo so se si pronunci Dober o Daubert quindi lascio a voi la scelta criteri che sono primo il metodo scientifico per essere la teoria scientifica per essere affermata tale e utilizzata nel processo questa è l'approvo di Daubert in Italia il tema è un po' più controverso se sia una questione di utilizzabilità o di valutazione il primo requisito che deve avere è quello della verificabilità del metodo cioè il metodo deve essere controllabile e replicabile secondo criterio quello della falsificabilità cioè il metodo deve essere stato sottoposto a tentativi di smentita che siano falliti il terzo criterio è quello della sottoposizione al controllo da parte della comunità scientifica cosiddetta peer review cioè l'essere questa teoria stata pubblicata su riviste scientifiche o comunque divulgata quantomeno nell'ambito della comunità scientifica di riferimento e discussa da ultimo o non ultimo deve essere espressamente e tassativamente indicato la percentuale di fallibilità percentuale di falsi positivi percentuale di falsi negativi questo si collega perfettamente a quella frase di Popper che vi avevo citato prima soggiunge poi un ulteriore criterio che anche nella sentenza d'Aubert è un criterio suppletivo quello della accettazione generale nella sentenza d'Aubert era utilizzato e riproposto a mio avviso semplicemente perché prima di quella sentenza questo costituiva l'unico criterio accolto nell'ambito della giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti per l'affermazione e quindi della scientificità di una determinata teoria vengo alla alla mia conclusione cerco di stringere perché vedo che il tempo è tiranno come ci insegna la sentenza franzese il compito del difensore è quello di partecipare attivamente al contraddittorio e pretendere che il contraddittorio si realizzi questo tanto con riferimento all'utilizzo all'ammissione all'assunzione e poi al momento della valutazione della prova scientifica quanto a mio avviso e qui vengo al punto al mio punto finale anche in relazione a tutti gli altri a tutte le altre argomentazioni siano esse probatorio o inferenziali cosa intendo dire intendo dire che il processo o meglio la scienza non è un unicum la scienza è metodo qualunque disciplina può essere scientifica se le si applica il metodo scientifico e al processo va applicato il metodo scientifico nell'esercizio della difesa in un processo bisogna cercare di applicare il metodo scientifico e quindi poiché l'onere probatorio nel processo penale che è quello di cui io mi occupo è un onere che incombe sulla pubblica accusa e è un onere che è imposto dal principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza è l'accusa che deve dimostrare la fondatezza dell'addebito laddove l'accusa non giunga a questa prova il giudice è tenuto alla soluzione quindi normalmente si dice il difensore non necessariamente deve provare qualche cosa può limitarsi a contrastare le prove portate dal pubblico ministero ebbene io credo che tutto ciò sia vero ma che non basti e che per l'esercizio appieno del diritto di difesa sia fondamentale che il difensore quantomeno difenda con le unghie e con i denti da quei retaggi del passato cui accennavo prima il diritto che è un diritto dovere all'esercizio del contraddittorio allora se vaglio scientifico se applicazione del metodo scientifico nell'ambito della difesa all'interno del processo significa tentare di falsificare le affermazioni cioè verificarne la consistenza la resistenza nella sentenza franzese c'è un meraviglioso passaggio nel quale Canzio afferma che è scientifica quella teoria che resiste al scontro del contraddittorio all'impatto con il contraddittorio processuale dicevo questo metodo va applicato a non solo alla prova scientifica ma a tutte le inferenze del processo anche e vengo alla mia conclusione alle massime di esperienza nel caso che ci citava prima il professor Boccardo a me ha stupito un passaggio cioè che mi ha particolarmente attirato l'attenzione ed è stato laddove il professor ci ha riferito abbiamo simulato al computer centinaia di migliaia di camminate abbiamo poi eliminato le camminate non ragionevoli ecco che anche la scienza fa ricorso a criteri che non hanno un fondamento scientifico cioè cos'è che mi definisce qual è una camminata ragionevole o non è una camminata ragionevole semplicemente una massima di esperienza la massima di esperienza è applicare a un caso singolo concreto particolarissimo l'esperienza comune che ci dice che un soggetto medio in una determinata situazione generalmente si comporta in quel modo ecco io credo che le massime di esperienza rappresentino un pericolo enorme perché non sono sperimentali non sono misurate non sono generali e pretendono di ridurre a comprensibile spiegabile ad unità una complessità rispetto alla quale secondo me noi non siamo attrezzati alla comprensione ho concluso voglio solo leggere un ultimissimo passaggio della sentenza Cozzini che è di monito e di invito a tutti gli operatori del processo anche ai consulenti tecnici e periti naturalmente afferma il consigliere Braiotta il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine siffata quella sulla fondatezza o non fondatezza di una teoria scientifica le informazioni di cui si parla relative alle differenti teorie alle diverse scuole di pensiero dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti costoro non dovranno essere chiamati ad esprimere solo il loro personale seppur qualificato giudizio quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi e da fornire gli elementi di giudizio che consentono al giudice di comprendere se ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema chiedo scusa fornire tutti gli elementi di giudizio che consentono al giudice di comprendere se ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema possa pervenirsi ad una metateoria in grado di guidare affidabilmente l'indagine di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione in modo completo e comprensibile a tutti dell'apprezzamento compiuto e qui poi il passaggio che più mi commuove la corte ha la consapevolezza di indicare al giudice di merito un compito assai impegnativo d'altra parte le difficoltà non possono essere nascoste ma vanno poste in luce e se possibile vanno risolte grazie grazie Marco per questa tua relazione che completa il quadro generale teorico e teoretico di quanto ci sta a cuore in questa mattinata mi pare che alla fine non vi siano delle differenze sostanziali tra quello che dici e quello che abbiamo sentito dal consigliere Salvarani salvo un maggiore o minore ottimismo rispetto alla situazione odierna che probabilmente risale alle rispettive origini professionali e così proprio per questo motivo mi ti sento particolarmente vicino passiamo ora ad un'altra concretezza e cioè quella del professor Russo dell'università di Ferrara che ci parlerà dei casi di Martha Russo e Gabriele Sandri e più esattamente di geomatica e balistica forense che come sapete sono state alla ribalta principale dell'attenzione in questo processo molto discusso grazie avvocato anch'io come Piero Bocardo desidero ringraziare moltissimo coloro che hanno organizzato questa giornata in particolare Luciano Surace che ci porta noi tecnici a parlare di un argomento che ci ha appassionato molto sicuramente penso che Bocardo concordi con me su questo siamo abituati a fare ben altro nel nostro mestiere e adesso ci stiamo avvicinando a una disciplina estremamente interessante per quanto mi riguarda io ho collaborato in casi in cui la geomatica è entrata doveva risolvere dei problemi balistici cioè doveva collaborare a risolvere dei problemi balistici in diversi casi tra i più importanti sono quelle di Marte Russe e di Gabriele Sandri le moderne tecniche di rilevamento della presentazione sono utilizzate in questi casi per la ricostruzione ovviamente virtuale della scena del crimine e ricostruzione che è specificamente orientata nel nostro caso alla ricostruzione delle traiettorie balistiche in crimini con l'uso in cui è comportato sono utilizzate armi da fuoco perché la ricostruzione virtuale la crime scene reconstruction sicuramente è uno strumento per analisi a posteriori di fenomeni complessi come può essere un determinato istante di un evento criminale e anche un importante strumento di comunicazione in fase dibattimentale quello che vedete ovviamente è una simulazione ci mancherebbe altro solo da una parte la scena del crimine così come si dovrebbe così come si presenta l'atto del sopralluogo dei funzionari di polizia giudiziaria e dopo di fianco le ricostruzioni uno dei problemi che abbiamo avuto penso anche Piero Boccardo poi ce l'ha fatto anche vedere è che noi tecnici non interveniamo sulla scena del crimine non possiamo fra l'altro e quindi l'acquisizione del dato in questo caso è affidato ai corpi di polizia giudiziaria la ricostruzione consente di analizzare diverse problematiche in particolare ad esempio se la ricostruzione è metricamente corretta e nel caso della balistica determinare rideterminare rivalutare delle distanze delle posizioni relative e via dicendo non vi annoio su questo i vantaggi l'analisi del crimine la misurazione di grandezze fisiche l'analisi delle incertezze abbiamo parlato fino adesso di incertezze e ce ne sono veramente tante la valutazione per esempio dei punti di vista dei testimoni è interessante perché quando si ricostruisce in modo virtuale una scena del crimine si può tranquillamente verificare se quel test che era in quella posizione in quell'istante poteva vedere determinate cose ad esempio naturalmente la simulazione dinamica degli eventi e la determinazione delle traiettorie l'ho messa poi ci sono anche degli aspetti psicologici ma non ne parliamo in questa sede quali sono i momenti lo studio dei documenti agli atti vi confesso che da ingegnere quale sono non lo sapevo e invece gli atti sono veramente tanti sono ponderosi dai referti delle peristi autoptiche alle verbali di sommare informazione e così via poi c'è l'acquisizione del dato la misura siamo noi topografi che è geomatici bisogna dire adesso che interveniamo la realizzazione quindi del modello della scena l'integrazione nel modello della scena di tutto ciò che è stato repertato al momento del primo sopralluogo e che noi non abbiamo potuto verificare perché spesso e volentieri i nostri rilevamenti vengono fatti mesi dopo gli eventi giorni dopo o addirittura anni dopo e la simulazione virtuale statica di determinati istanti o addirittura la simulazione dinamica di una sequenza di eventi questi sono un esempio di tracce di reperti che in un caso questo è un delitto del brigate rosse non abbiamo potuto rilevare noi abbiamo utilizzato il dato dei rilevamenti di polizia giudiziaria e queste sono ovviamente delle tracce lasciate dai proiettili il caso in basso riguarda per esempio l'autovettura del dottor Calipari le operazioni di rilevamento possono avvenire dovrebbero avvenire all'atto del primo sopralluogo ma a noi consulenti non è consentito questo oppure avverrà come sempre accade appunto successivamente i ferri del mestiere eccoli qua la stazione totale il laser scanner qui sono stato bipartisan per quanto riguarda le ditte la fotocamera digitale il tele rilevamento il satellite artificiale perché no questo è un esempio questa è una scena del crimine è lo svincolo di Baghdad dove è stato ucciso il dottor Calipari in un caso come questo ne parleremo magari un'altra volta non ci era consentito dall'esercito americano andare a fare i rilevamenti come facevamo abbiamo utilizzato immagini satellitari i vincoli geometrici sono tanti quelli di cui si deve tenere conto in una perizia balistica io non sono un perito balistico lo dico subito quello di aver sparato una volta sola ed è anche forse stato troppo dai bossoli le tracce dei fori lasciati dai proiettili le scalfitture i materiali adesi ai proiettili i materiali organici o inorganici che testimoniano il passaggio attraverso determinati oggetti posizioni e atteggiamento della vittima posizione e atteggiamento dell'aggressore quali erano come possono essere resi congruenti con la direzione della traiettoria balistica le tracce matiche la traiettoria anatomica ecco su tutto questo un attimino di attenzione alla traiettoria anatomica il lavoro del perito balistico è un lavoro chiedo scusa il lavoro della balistica è un lavoro multidisciplinare e il dato uno dei dati fondamentali come vedrete tra poco è il referto autottico il proiettile entra a una prima traccia a un primo tramite quel tramite lì è fondamentale va posizionato e va orientato nello spazio perché prolungandolo all'esterno del corpo quella è la traiettoria del proiettile omicidio di Marta Russo cerco di essere veloce 9 maggio 1997 forse i più giovani di voi lo ricordano poco ma è stato un caso molto importante Marta Russo stava camminando nel cortile uno dei cortili di Roma la Sapienza viene attinta da un colpo d'arma da fuoco e pochi giorni dopo anzi muore il quesito il quesito era molto complesso io in questo caso non ero consulente ma ero consulente del consulente la scena del crimine non c'era più perché noi siamo intervenuti un paio d'anni dopo quindi era un normale cortile dove giravano gli studenti avevamo il referto autoptico che dava una probabile tra virgolette traiettoria intrasomatica a un sacco di incertezze nessuno ricordava più dove era la ragazza e abbiamo fatto sopralluoghi con la polizia ma forse era lì però forse era lì sapevamo con una discreta approssimazione qui ormai il problema dell'incertezza è notevole in questa sede che lì c'era la testa e quindi sicuramente lì non c'erano i piedi ma noi come facevamo a sapere quindi noi abbiamo utilizzato quella posizione per ritenere che fosse una posizione plausibile sicuramente era sbagliata però non avevamo altri elementi un po' di topografia reti di inquadramento è un lavoro di più di dieci anni fa questo fu utilizzato all'epoca i primi laser scanner e si rivelarono del tutto inutili dopo come infatti giustamente Boccardo dice bisogna rilevare tutto poi dopo ci si accorge che magari il 90% non serviva non potevamo in questo caso non è che ci fossero dei problemi di ripetibilità del lavoro però ci sono dei problemi di urgenza particolari quindi vedete questi sono i modelli questa è la famosa aula 6 quella da cui uno degli imputati ha sparato si presume che abbia sparato poi così è stato detto modelli un po' di fotogrammetria ecco questo è il modello questo è il modello della scena del crimine è un modello virtuale la posizione che si diceva di Marta Russo poteva essere quella lì la finestra la famosa finestra dell'aula 6 quella referti optoptichi chiedo scusa dell'autopsia fu colpita da un colpo di proiettile di piccolo calibro il proiettile si ruppe in due frammenti uno di poco più di un grammo e l'altro di poco meno di un grammo e in basso vedete il frammento di teca cranica del foro del proiettile è ellittico perché il proiettile è entrato non ortogonalmente alla teca cranica e a destra la planimetria e chiedo scusa la planimetria alla sezione orizzontale dell'attac fu utilizzato addirittura il teorema della conservazione della quantità di moto per determinare da dove poteva provenire la traiettoria fortissime direi incertezze come abbiamo fatto bisognava posizionare il foro d'ingresso e bisognava orientare la traiettoria utilizzando per esempio un paio di angoli quelli che vedete in figura non vi annoio su questo questo è un modello un pochino più recente il primo modello che avete visto è di quasi 15 anni fa e si vede come la grafica è cambiata la traiettoria ma qui c'erano tante teorie vedete in basso non vi sto a annoiare con quella tabella ma sono tutta una serie di possibili di angoli di direzione stimati da diversi consulenti noi li abbiamo analizzati tutti abbiamo anche attribuito però vedete quel cono di incertezza cioè a ciascuna cono tra virgolette perché non è esattamente un cono è una figura un pochino più complicata cioè a ciascuna direzione che ci veniva fornita soprattutto dal consulente di medicina legale noi abbiamo attribuito comunque sia un margine d'errore e poi dopo un'altra incertezza ma questa ragazza era dritta era in posizione ortostatica era leggermente clinata in avanti faceva così con la testa faceva così non si sapeva voi immaginate questo segmento che fuoriesce dal cranio e dove va a finire è un segmento solidale al cranio quindi abbiamo dato tre gradi di libertà quelli che vedete e questa è una piccola simulazione perdonate il manichino ma non era così ovviamente di repertorio facendo per esempio ruotare semplicemente in uno dei tanti gradi possibili di libertà vedete l'intersezione della traiettoria che fuoriesce dal cranio con la parete della sapienza e questa intercetta la parete stessa naturalmente anziché un segmento diretto abbiamo utilizzato il cono e quindi come potete vedere da questi qui ne abbiamo fatte anche noi centinaia di questi elaborati fra l'altro grafici all'epoca queste fasce indicano punti possibili dell'epicentro di fuoco per esempio questa è compatibile con l'aula 6 questa è compatibile con il bagno dei disabili dal quale bagno dei disabili noi verificiamo modellando anche le inferiate che si poteva sparare morale della favola nel caso Marta Russo noi potremmo semplicemente dire che l'aula 6 era compatibile con una possibile posizione di colui che aveva sparato non abbiamo potuto dire altro posto che vi erano parecchi altri elementi di incertezza come vi dicevo prima Gabriele Sandri 26 anni viene ucciso l'11 novembre del 2007 mentre parte assieme dagli altri amici dei tifosi della Lazio dalla area di servizio di Badia Alpino vicino ad Alesso il colpo viene esploso da un funzionario di pubblica sicurezza spaccarotella come ben noto scena del crimine la Megane era parcheggiata si vede la freccetta più o meno in questa zona i ragazzi dopo una collutazione scappano salgono sulla Megane la Megane parte velocemente più o meno questa questa è una foto che abbiamo fatto noi non c'entra niente con la Megane è una macchina che stava passando era più o meno in questa posizione dall'altra parte qui circa poi vi dirò perché circa si trovava l'agente di pubblica sicurezza spara il colpo impatta e questo è stato elemento nel dibattimento è stato un elemento durissimo impatta sulla rete viene deviato e colpisce la macchina entra dal finestrino posteriore colpisce al collo Gabriele Sandri che dopo poco tempo muore diversi quesiti in particolare quello giallo è quello di cui ci siamo occupati noi geomatici la traiettoria seguita dal proiettile che attinse la Renault Megane all'interno del quale si trovava Sandri Gabriele vari rilevamenti abbiamo rilevato l'automobile questo è quello come si presenta quando ecco questo è quello che abbiamo trovato noi la macchina non era più lì era in una garage ed era sigillata abbiamo tolto i sigilli vado velocemente rilevamenti di tutti i generi questo è il modello della Megane abbiamo cominciato ad introdurre un primo sistema di riferimento qui abbiamo la deformazione professionale e questo invece è un rilevamento fotogrammetrico questo è il foro di ingresso rilevato fotogrammetricamente posizionato nel sistema di riferimento solidale alla macchina abbiamo usato i tre di sistemi sistema di riferimento solidale a Sandri sistema di riferimento solidale alla macchina sistema di riferimento assoluto il modello della macchina è questo naturalmente siamo anche saliti in cinque sulla macchina per determinare di quanto si abbassava abbiamo tenuto conto del movimento dinamico e quindi dell'inclinazione in relazione alla alla pendenza trasversale della strada Badia Alpino è questa questa è una delle due le due aree di servizio questo è un momento del rilevamento laser scanner montato sul cestello abbiamo avuto dei problemi enormi perché a un certo punto il cestello ha ceduto e quindi è stato un disastro abbiamo dovuto rifare tutto è un'ingenuità sistema di riferimento assoluto quello in cui abbiamo poi analizzato tutto questa è la rampa la rampa in cui c'era la Renault quando è stata attinta dal colpo dal colpo d'arma da fuoco mi dispiace queste sono sezioni del terreno che sono state ottenute dal rilevamento chiudo scusa sono disegni tecnici l'esteroflessione è questa qui gli avvocati hanno pestato duro passatemi il termine perché per questo punto è passato il proiettile il proiettile ha urtato contro la rete ed è stato deviato non sappiamo esattamente di quanto ci è stato chiesto molte volte non si poteva dire rilevamento quindi della posizione e alla fine la traiettoria balistica è composta da una spezzata nello spazio un primo tratto da spaccarotella all'esteroflessione secondo tratto dall'esteroflessione al foro sul finestrino il terzo tratto dal foro sul finestrino alla Renault Megane foro d'ingresso sulla vittima il quarto tratto la traiettoria intrasomatica abbiamo modellato abbiamo fatto un modello antropometrico di Gabriele Sandri queste sono le posizioni adesso poi vi farò un paio di filmati durano pochissimi minuti da farvi vedere perché li abbiamo fatti perché come strumento di comunicazione alla corte abbiamo ritenuto che il filmato fosse particolarmente efficace perché i procedimenti sono abbastanza complicati ma li faccio vedere tutti in una volta chiedo scusa all'interno della Renault abbiamo creato il modello della Renault messo il modello di Gabriele Sandri Gabriele Sandri era qui era in mezzo agli altri due pensate alla sfortuna di questo ragazzo è un piccolo questo è un commento personale i modelli sono orrendi me ne rendo conto però le caratteristiche antropometriche di Gabriele furono ricostruite abbastanza bene in base ai dati che ci aveva dato il dottor Stamile che era il perito consulente di medicina legale ecco questa è una delle chiavi di tutto il problema noi abbiamo imposto una condizione di allineamento tra foro d'ingresso nel collo foro d'uscita il proiettile fu trovato qui più o meno ammettendo che non vi fosse alcuna deviazione del proiettile nei tessuti molli del collo la traiettoria deve passare attraverso quel foro la traiettoria deve passare attraverso in corrispondenza dell'estroflessione della rete dei vincoli geometrici fondamentali queste sono viste del modello vedete dal punto di vista diciamo della rappresentazione dell'efficacia del modello tridimensionale queste sono sempre viste del modello e la condizione di allineamento il posizionamento di questo foro è fondamentale c'è un secondo filmato adesso poi ve li faccio vedere perché ecco com'era l'atteggiamento di Gabriele Sandri era dritto era rilassato si muoveva abbiamo simulato parecchie posizioni e alla fine ciò che è venuto fuori non è una traiettoria come qualcuno voleva che si fosse ma è una una piramide all'interno della quale si trovano tutte le possibili traiettorie la tecnica che abbiamo utilizzato per dire dov'era la macchina quando è stata attinta dal colpo dal matto a fuoco è esattamente questa dalla chiedo scusa dalla macchina esce questa traiettoria sia in senso planimetrico che è altimetrico appena la traiettoria e questa questa piramide incontra l'estroflessione questo è il primo punto poi c'è un percorso della Megane vatte la pesca dove era quando è stata colpita l'ultima posizione la posizione più a nord è quando la piramide esce e non interseca più la traiettoria è qui forse il caso di farvi vedere i filmati dunque fare esc chiedo scusa poi dunque datemi un attimino di tempo rosso qua sono qua questo è un filmato che descrive la ricostruzione delle caratteristiche antropometriche di Gabriele Sandri il perito non ci aveva dato tantissimi dati d'altra parte l'autopsia era già stata fatta però avevamo degli elementi fondamentali diciamo di massima notate il manichino non è sicuramente perfetto quello che contava era questo dato l'altezza in particolare l'altezza che il foro d'ingresso avrebbe avuto rispetto al sedile posto che la persona era seduta in una determinata posizione e lo schisso del medico legale era infernale quindi abbiamo dovuto fare un lavoro veramente complicato per decodificarlo e questo non toglie nessun merito al medico legale ci mancherebbe altro e serviva per determinare in un sistema di riferimento solidale alla persona la posizione l'orientamento del tramite che è assolutamente fondamentale in questo caso e questa e ci aveva dato una marea di dati e ci siamo sforzati di rappresentarli in questo modo questo filmato ripeto abbiamo ritenuto opportuno utilizzarlo in fase di presentazione alla corte dunque la traiettoria interna è questa non so se questo adesso bisogna forse toglierlo anche questa è una ricostruzione animata di quello che vi ho descritto prima abbiamo stimato due posture chissà quante ce n'erano qui l'approccio è stato quasi più che statistico più deterministico abbiamo cercato delle situazioni estreme all'interno delle quali ci dovrebbe essere la soluzione questo mostra il proiettile all'ambito letteralmente le spalle dell'amico che era seduto di fianco a Gabriele e vedete come descrive nello spazio questa traiettoria che fuoriesce dall'automobile può essere il punto d'origine qualcuno aveva detto non è possibile perché con quell'inclinazione avrebbe potuto sparare spaccarotella da 5 metri di altezza non era vero sono d'accordo con Boccardo se ne vedono di tutto in dibattimento dal punto di vista dei consulenti tecnici cercano e quindi una certa serietà anche a me piacerebbe richiamarla in realtà come vedrete queste traiettorie impattano sull'estroflessione e arrivano ad un'altezza dal suolo che era assolutamente compatibile con un atteggiamento di questo genere che era quello che i testi attribuivano a spaccarotella questo vedete è il ventaglio questa è la piramide che esce l'ultimo chiedo scusa l'ultimo è questo qua l'ultimo filmato mostra come abbiamo questo è un 3D questo modello è bruttino dal punto di vista della grafica ma vi assicuro che dal punto di vista metrico è estremamente l'abbiamo controllato molto bene quelle che vedete sono le posizioni limite della Megane quando la piramide ha intersecato l'estroflessione una posizione intermedia e la posizione finale naturalmente anche in queste ci sono dei margini d'errore e questo è più che evidente da quest'altra parte invece le posizioni di spaccarotella che risultavano dai testimoni da testimonianza agli atti queste tre mentre quell'altra era la posizione che sosteneva di avere lo stesso spaccarotella ma dal nostro punto di vista abbiamo potuto escludere che questa posizione fosse compatibile questa qui in particolare fosse compatibile con la deviazione che aveva subito il proiettile questo è un punto fondamentale infatti su questo poi c'è stato ampio dibattito che è l'estroflessione sulla rete vengo alle conclusioni dove caspita eccolo qua questo qui chiedo scusa ecco questi sono elaborati tecnici siccome ci erano parsi un po' complicati è per quello che abbiamo fatto il filmato questo mostra ad esempio che una possibile traiettoria del proiettile vado all'indietro dalla vittima all'estroflessione da una delle possibili posizioni di spaccarotella che doveva essere qui non sappiamo se era sulla strada non sappiamo se era sullo sterrato però vedete che alcune traiettorie impattano sul guardrail altre invece vanno oltre e arrivano sul New Jersey all'estroflessione andando avanti queste sono varie testimonianze la traiettoria dall'estroflessione arriva sullo sterrato un metro e mezzo dallo sterrato quindi considerata l'altezza dell'uomo questa posizione era compatibile con un epicentro di fuoco a circa un metro e mezzo dal terreno abbiamo così come anche noi alla fine abbiamo facendo le tabelle come quella che è simile a quella che ha fatto vedere Piero Boccardo in azzurro sono situazioni che erano del tutto incompatibili tutte le altre non sto a insistere a descriverle troppo sono situazioni invece compatibili con quelle posizioni di spaccarotelle e con quelle posizioni della macchina morale della favola non abbiamo saputo dire qual era la vera traiettoria balistica abbiamo detto colui che sparava era in una si trovava in una posizione intermedia di un tratto di circa 20 metri e la Megane un tratto di circa 30 metri mi pare di ricordare adesso non ha importanza la traiettoria balistica da un minimo di 40 metri a un massimo di circa 70 metri fu utilizzata una beretta calibro 9 parabellum su quelle distanze un'arma assolutamente letale anche dopo aver subito questa deviazione sulla 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 rete metallica conclusioni varie direi vengo a concludere volevo semplicemente rimarcare una cosa nel nostro caso nel caso della balistica il lavoro della è un lavoro di consulenza tecnica è un lavoro pesantemente multidisciplinare abbiamo bisogno di una di saperci parlare di conoscere i linguaggi noi il medico legale il perito balistico in questo caso il perito chimico quello che aveva analizzato l'estroflessione aggiungo che in questo caso è stata fondamentale un'assistenza continua del pubblico ministero non mi sono mosso non ho mosso una virgola senza avere avere diciamo senza consultarmi e avere una autorizzazione avere diciamo i consigli anche su come su come muovermi per quanto si riguarda quindi conoscere gli elementi della procedura penale è assolutamente fondamentale per me è un mondo nuovo è un mondo anche in cui i linguaggi non mi sono non mi sono del tutto del tutto del tutto del tutto noti anche i vari procedimenti una volta ci chiamiamo consulenti una volta ci chiamiamo periti sono tutte cose che vanno capite vi ringrazio per l'attenzione grazie professor Russo abbiamo avuto un'altra esemplificazione del lavoro sul campo è il momento di quella sosta di cui aveva parlato il professor Suraci dieci minuti perché l'ora è avanzata un momento di intromissione non programmata io mi presento per chi non mi conosce mi chiamo Mario Gomarasca e sono stato il primo presidente di Asita dalla sua fondazione per qualche anno e sono qui perché Luciano Surace lascia la presidenza di Asita dopo cinque anni lui è stato un grande professionista nell'attività che ha svolto per Asita è stato molto coerente indipendente ha lavorato tantissimo per tutta l'associazione mettendo a nudo il suo carattere sanguigno che è mosso dalla passione sempre per cui abbiamo pensato come consiglio direttivo Asita consiglio scientifico Asita e tutti i consigli delle quattro associazioni federate e tutti coloro che hanno avuto modo di lavorare con Luciano di dare un riconoscimento e un ringraziamento per la sua grande passione e attività grazie Luciano sono assolutamente sorpreso e ringrazio e per questo abbiamo preparato una targa ricordo da offrire a Luciano proprio per ringraziarlo tantissimo di questa sua disponibilità vi ringrazio di questo pensiero vi prego di credere al di là di ogni ragionevole dubbio che non ero preparato all'evento grazie abbiamo cercato proprio di farti una sorpresa perché sappiamo che ti è gradita grazie 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 a tutti